Dunque oggi abbiamo due o tre cosette da fare, due le faremo di sicuro, la terza vediamo, se ce la facciamo, visto l'orario. La prima cosetta chiaramente è terminare la simulazione sulle migrazioni. Allora io mi sono permesso in vostra assenza, cioè mentre aspettavo fuori nel corridoio, di fare le parti, diciamo così banali, di collegamento, ricordate che il punto uno di questo esercizio era già risolto, io ho fatto il collegamento del controller al model ed al model simulatore, per non perdere tempo a fare cose banali, e quindi di fatto il tasto simula adesso fa qualcosa, ma semplicemente ciò che ho fatto, che lo trovate già su github se volete, è dentro il controller, semplicemente implementare il metodo simula, in cui vado prendere la nazione che ha scelto l'utente, verifico ovviamente che ci sia, e chiamo un metodo simula migrazione del model, e poi stampo il risultato essenzialmente, questo metodo mi restituisce la mappa degli istanziali, ricorderete che la volta scorsa avevamo ragionato che la mappa degli istanziali fungeva sia da stato del sistema, sia da output del sistema, c'è qualcosa che dobbiamo restituire, che contiene il risultato della simulazione, quindi il controller chiede al modello di fare questo lavoro, il modello, ho implementato un metodo simula migrazione che non fa altro che creare un nuovo simulatore e farlo partire, queste tre istruzioni e restituire i risultati, quindi questo lavoro qua di gestione del simulatore lo lascio fare al modello che ha tutte le informazioni, in particolare il grafo che ovviamente è proprietà del modello e che il controller non potrebbe avere e non vorrebbe avere, quindi ho semplicemente aggiunto queste poche righe, ma per poterci concentrare sulla parte del simulatore che manca, anche qua saranno poche righe, però visto che fanno parte della simulazione le facciamo insieme, allora avevamo detto, io ho un solo tipo di evento, che è ingresso in un nuovo stato e a seguito all'ingresso in un nuovo stato devo capire quali ingressi negli stati confinanti devono avvenire, quindi la prima cosa che mi serve sapere chiaramente è quanti e quali sono gli stati confinanti rispetto allo stato in cui sono entrato adesso, lo stato in cui sono entrato adesso l'abbiamo chiamato stato destinazione, cioè destinazione di questo movimento di ingresso, non è la destinazione finale e quindi potremmo usare, quindi mi serve l'elenco dei vertici adiacenti al vertice che si chiama destinazione, questo è un grafo non orientato e quindi potremmo usare, esiste un metodo scomodo da usare che si chiama adiacenti, abbiamo, possiamo avere per un determinato vertice gli archi, abbiamo un get edge o get edge set, ma la cosa è quindi da un vertice trovo i suoi archi adiacenti e dagli archi adiacenti trovo i vertici, però è un lavoro un po' scomodo, ma come tutti i lavori scomodi ma frequenti, nella classe graphs c'è già un metodo che si chiama neighbor list o un metodo neighbor set, sono equivalenti ovviamente uno sostituisce una lista, l'altro sostituisce un set, prendiamo una lista se vogliamo, che è più comodo da usare, che dato un grafo e un vertice mi dà già direttamente la lista, ritorno a una lista di vertici che sono i vicini di un vertice specificato, quelli adiacenti, quindi direttamente connessi, quindi in questo modo passiamo da vertice a vertice senza dover passare dall'arco e poi prendere l'opposite vertex come già sapevamo fare. Neighbor list va bene per un grafo non orientato come il nostro, perché i vicini sono vicini nelle due direzioni, altrimenti ci sono altri due metodi che si chiamano predecessore e successore, predecessore list e successore list, sempre in graphs, che vanno a vedere invece gli archi successivi in un grafo orientato, quindi seguendo la direzione a freccia oppure seguendo la direzione inversa, quindi con questi tre metodi di solito ci si sposta facilmente nel grafo. Primo parametro dis.graph, secondo parametro il vertice di partenza e il risultato di questa chiamata è la mia lista di questo quasi a country come tipo di vertice. Questo qua ristorna a list di country, questa list devo importarla, già appunto utile e lui è contento. A questo punto ho la lista di vicini e so quanti sono, oltre che a sapere quali sono, e quindi posso capire quante persone andranno a finire in ciascuno degli stati vicini. In questo caso abbiamo deciso di distribuire le persone in modo uniforme, quindi ho, si chiamava dimensione il numero di persone, faccio la metà, perché metà sono quelle che si spostano e di questi divido ulteriormente per il numero di vicini. quindi diciamo che si spostano int migranti, chiamiamolo così, uguale dimensione diviso 2 diviso vicini, e vi ho la dimensione dei vicini, vicini punto size. E queste sono divisioni tra interi che ovviamente perdono le parti frazionarie, giustamente diceva il testo approssima per difetto che è quello che fa la divisione intera. dimensione è un int, 2 è un int, vicini punto size è un int, quindi questa divisione avviene come divisione intera, non come divisione reale. A questo punto questo è il numero che può anche essere uguale a 0, sicuramente un numero compreso da 0 è una cosa positiva, la prima volta sarà 1000 diviso 2 diviso gli adescenti, quindi se fosse 0 vuol dire che praticamente la simulazione è finita, nel senso che così o meglio, no, non è vero che la simulazione sia finita, vuol dire che da questo gruppo di migranti che è entrato in questo stato si fermano tutti qui. poi magari ho altri eventi di ingressi in altri stati, magari con numeri maggiori di dimensione, con valori maggiori di dimensione, quindi quegli altri eventi sono ancora da elaborare, magari la simulazione va ancora avanti, ma da questo caso non genero più nessun evento. Se invece migranti è diverso da 0 dovrò generare tanti eventi di ingresso, quanti sono gli stati vicini, quindi se prima di tutto mi chiedono, devo generare dei nuovi eventi di ingresso, cioè ho effettivamente dei migranti o erano talmente pochi che si sono fermati tutti, pochi rispetto al numero di stati adiacenti ovviamente, confinanti. Allora se migranti è maggiore di 0 allora devo depositare migranti, persone in ciascuno degli stati vicini, quindi vado a prendere ciascuno degli stati vicini, country c due punti vicini, e per ciascuno di queste nazioni genero un evento di ingresso in quello stato, quindi genero un evento quindi dis.queue.add, di new event, e ricordiamoci la nostra classe evento aveva, se non ricordo male, due parametri, time, no, tra, scusate, tre parametri, time, destinazione e dimensione. Time, ovviamente abbiamo un tempo discreto, fittizio, basato sulle generazioni, numero di passi, e quindi prendiamo il passo attuale che è time e lo sommiamo uno, facciamo time più uno, qui sono entrato al tempo tre, in questo stato, negli stati adiacenti entrerò al tempo più quattro, qualunque cosa voglia dire questo quattro, non è un'unità di misura, semplicemente il numero di passi. secondo parametro era, non mi ricordo che ordine fosse, la country direi, e quindi la country c, che è uno dei vicini, e il terzo parametro è la dimensione, cioè il numero di migranti, che ho calcolato. quindi qui creo eventi tutti simili, nel senso allo stesso tempo, con lo stesso numero di persone, perché ho deciso di distribuirli così, su nazioni diverse, su vicini diversi. Questo. Dopodiché, che rimangono stanziali invece, chi sono? Sono tutti gli altri. Quindi devo andare, se vogliamo, calcoliamoci i distanziali, ops, è partito il mouse, quanti saranno? Saranno i totali, meno i migranti, moltiplicato il numero di stati. Migranti, moltiplicato per vicini punto size. che non sarà la metà della dimensione, ma un pochino più di metà della dimensione, perché tutti i resti della divisione, qui me li prendo. Mentre prima li perdevo sui migranti, qui invece li prendo. Per questo faccio la sottrazione, perché qui ho fatto delle divisioni, perdendo il resto, poi lo rimoltiplico per moltiplicando, ma ovviamente mi ritrova un numero che è minore del numero di partenza. E questa differenza abbiamo deciso. Il testo ci diceva farli diventare stanziali. Ma tutti i rotti, tutte le frazioni diventano stanziali. E una volta che ho calcolato i stanziali non devo far nulla, non devo generare un evento, ma semplicemente devo aggiornare quello che è lo stato del sistema che sta nella mappa stanziali, incrementando il valore intero che c'è dentro. Non devo settarlo, devo incrementarlo, perché magari in quello stato si arriva in più momenti o da più luoghi diversi, quindi ogni volta aumentano le persone. Quindi ricordate che la volta scorsa avevamo inizializzato tutto a zero questa mappa stanziali, quindi ho già dei valori tutti a zero, devo semplicemente incrementarli. Quindi farò dis.stanziali.put nella country C no, C si chiama destinazione C erano gli stati verso cui vado, destinazione è lo stato in cui sono entrati adesso, che cosa metto? Metto un valore che è dis.stanziali.get di destinazione, cioè il valore che c'era adesso, più stanziali o che brutto l'ho chiamato allo stesso modo, nuovi stanziali. Quindi andiamo a capo così si riesce a leggere questa espressione. Ok? Metto, incremento il valore di una di una mappa essenzialmente, quindi devo fare il get del valore vecchio e il put del valore nuovo. E il valore vecchio è lo incremento di questo valore qua. Ecco, questo dovrebbe, occhio croce, essere tutto ciò che ci serve. Proviamo a fare un run, sperando di una fortuna. mettiamo, non so, calcolo i confini, portiamo sotto la console così vediamo cosa si stampa. Questo era il primo punto, non il calcolo i confini. Adesso, scegliamo uno stato, che è il belgio, a caso, e clicchiamo su simula, dovrebbe a questo punto far partire il simulatore e mi dice al tempo zero, ho messo una print semplicemente dell'oggetto evento, entrano in Belgio mille persone. Al tempo uno entrano 166 persone, quindi evidentemente il Belgio aveva tre vicini, mille diviso due fa cinquecento, cinquecento diviso tre fa 166 virgola i rotti che li ho persi, che questi vicini a loro volta sono Paesi Bassi, Germania, Francia. Questo è il passo uno. Al passo due le cose diventano un pochino complicate perché abbiamo tanti ingressi e perché sono tutti vicini dell'Olanda, tutti vicini della Germania, tutti vicini della Francia in un ordine che non è definito, perché sono tutti al time uno, quindi la coda prioritaria chissà cosa tira fuori per primo. Allora io il sospetto che ho è che abbia tirato fuori per primo la Germania perché mi mette come vicino la Russia, anche se in realtà devo dire che onestamente i confini europei al 1900 non me li ricordo così bene, quindi magari Russia, Olanda, Belgio, chissà cosa avevano. Quindi potrebbe essere, qua c'è una dimensione cinque, che 566 diviso 2 farebbe 80, 88, insomma qualcosa del genere, per arrivare a 5 probabilmente avrò qualcosa come 10 o 12 vicini per una di queste nazioni. Forse magari una print in più non ci stava male. Qua, così vediamo cosa succede. Possiamo mettere qua, out print line, diciamo che la country, quindi destinazione punto get, facciamo l'abbreviazione, semplicemente, a vicini punto size confinanti, così riusciamo a seguire un pochino meglio cosa fare l'algoritmo in questa fase di debug. Quindi rifacciamolo, 1900, creo il grafo, scegliamo il Belgio, solo perché tra i primi in ordine alfabetico, e quindi mi dice il Belgio ha tre confinanti, l'avevo sospettato, poi estraggo Olanda, Germania e Francia, Olanda ha quattro confinanti, Germania ne ha quattordici e Francia ne ha otto e quindi questo cinque sono gli adiacenti della Germania, adesso qua li vediamo mescolati, gli adiacenti della Germania che sono quelli che riconosciamo dal cinque con gli adiacenti probabilmente della Francia che sono di meno, dimensione dieci e sono tutti un po' mescolati, qui vedete altri cinque, ma perché? Perché come time abbiamo messo questi numeri interi e la code prioritaria si vede arrivare a tanti eventi tutti in un time uguale a due e li ordina un po' come vuole, non abbiamo specificato nessun requisito in più quindi per noi va bene tutto, sono tutte cose che avvengono al tempo due, al passaggio due, l'importante è che avvengano dopo il passaggio uno. L'altra cosa che notiamo è che ci sono varie immigrazioni ad esempio in Francia, sempre al tempo due, ci sono venti e cinque, ma perché? perché venti sono quelli che dal Belgio sono andati in Olanda e dall'Olanda vanno alla Francia e cinque sono quelli che dal Belgio sono andati in Germania e dalla Germania ritorno in Francia, quindi ci possono essere gruppi di persone diverse che poi convergono sulla stessa nazione. In questa nostra simulazione abbiamo trattato questi venti come un gruppetto totalmente separato e indipendente rispetto a questi cinque, quindi quando calcoliamo gli istanziali eccetera facciamo venti la metà di venti e cinque la metà di cinque non facciamo non ci era richiesto di mettere insieme guarda vediamo tutti quelli che arrivano al tempo due in Francia li mettiamo insieme e li dividiamo no, questo non lo stiamo facendo non era richiesto mi pare poteva essere un altro modo di gestire la cosa ma che ovviamente avrebbe complicato diciamo così la simulazione perché avremmo avuto dovuto spezzare in due gli eventi un evento di ingresso e un evento di smistamento perché dovevo aspettare che tutti fossero magari al smistamento avvenire al tempo 2,5 dopo che avevo già sommato tutti quelli che arrivavano si sarebbe complicato parecchio il sistema questa è la versione più semplice e lui va avanti così chiaramente a un certo punto ho persone singole che rientrano in stati e quindi quando ho una persona singola che entra in uno stato non può che rimanere in un stato non può che rimanere stanziale tra l'altro ogni tanto vedete che rimbalzano ancora sulla Germania avanti e indietro ancora qua fino a quando ci si ferma e il risultato finale ce lo stampa qua l'interfaccia che dice partendo dal Belgio io ho 11 persone che vanno a finire in Svizzera 8 in Spagna 1 in Portogallo hanno un micro non sono idea cosa sia H&N Hannover faceva stato si vede all'epoca Baviera Germania 136 Olanda Paesi Bassi 104 Belgio stesso 527 ma perché metà si sono fermati subito e così via ovviamente sono stati che ora non esistono più perché erano preguerre mondiali quindi l'assetto europeo era diverso tra l'altro facendo un controllo minore di 1900 andiamo a pescare anche gli stati che c'erano ancora in precedenza se vogliamo fare una che ne so prendiamo l'Italia e facciamo simula ovviamente abbiamo tanti in Svizzera l'Italia chiaramente è più dicendo AOH sarebbe il regno austro-ungalico se non sbaglio regno di Sicilia e così via prendiamo un'altra parte del mondo completamente il Messico ovviamente qua vediamo che ci sono molti meno stati molti più ritorni sui stessi stati perché lì i confini sono numericamente più bassi e quindi tra l'altro evidentemente il Canada non esisteva all'epoca perché dall'Ura 150 non c'è nessuno che è andato in Canada per qualche motivo dimmi diceva di stampare il numero massimo il numero totale di passi necessari per puntare il numero totale di passi necessari sì lo possiamo calcolare nel senso che il simulatore dovrebbe a questo punto lo sa lo sa non lo sa il numero di passi il numero di passi dovrebbe essere il time massimo che otteniamo quindi ogni volta che estraiamo in realtà non lo stiamo calcolando dovremmo calcolarlo e mettere un getter per poterlo estrarre quindi in questo caso ogni volta che estraggo un time posso controllare se if time è maggiore di this punto passi di this punto e ne passi quale time man mano che estraggo un evento con un time verifico se è il massimo in realtà questa diseguaglianza della riga 56 non serve a niente perché per costruzione il time viene fuori in ordine crescente quindi è inutile fare questo confronto che sarà sempre o vero o uguale o maggiore o uguale non sarà mai minore il time che estraggo dalla coda rispetto al time precedente quindi semplicemente posso mettere dentro nei passi mi ricordo l'ultimo time che ho visto che grazie alla coda prioritaria sarà sicuramente maggiore o maggiore uguale di tutti gli altri time che sono passati di qua e quindi a questo punto basta mettere credo che non avessimo fatto ancora un getter a questa variabile source getter numero di passi get numero di passi e il nostro controller questo è il simulatore questo è la classe simulatore problema è che questo valore lo devo fare arrivare al controller il model ha un metodo che praticamente prende il simulatore inizializza e ritorna questo per ritornare anche il numero di passi dovrei salvarmelo e poi interrogarlo dopo perché non posso in un solo metodo ritornare due cose diverse quindi dovrei avere noiosissima questa cosa una variabile nel modello numero di passi simulatore che quando finisce la simulazione si salva il numero di passi di simulazione ovviamente chiedendo al simulatore che ha appena finito di lavorare no perché questo qua non è ancora simulato no si ho simulato qui estraggo il numero di passi e gli istanziali gli istanziali li restituisco subito come mappa e poi però il numero di passi mi predispongo come model a poter essere interrogato in un secondo momento e quindi devo mettere anche nel model un getter source getter su numero di passi simulazione a questo punto questo dato lo potrà interrogare anche il controller che dopo che ha stampato queste cose dirà txt result append text passi di simulazione due punti model punto get numero passi di simulazione a capo ok vediamo cosa fa passi simulazione 4 mi stampa al fondo effettivamente gli eventi l'ultimo evento che si è generato là sotto era un evento con time uguale 4 è solo scomodo perché non riesco in un solo metodo a restituire tutto potrai costruire un oggetto che ha dentro tutto ciò che serve restituire quell'oggetto però più o meno il tempo necessario costruire l'oggetto aggiungere un getter in più è più o meno confrontabile ok altre domande va bene allora per il momento chiudiamo questo non per il momento chiudiamo questo esercizio che abbiamo terminato